Continua a far discutere la scelta dell'istituto comprensivo di Salice Salentino Guagnano in provincia di Lecce di far indossare dall'anno prossimo ai bambini della scuola dell'infanzia un grembiule verde piuttosto che i tradizionali rosa e azzurro. L'obiettivo ha spiegato l'istituto scolastico e far crescere le future generazioni senza stereotipi di genere e con il valore dell'uguaglianza. La decisione segue una proposta della commissione pari opportunità del comune del 2023 per promuovere il rispetto per le diversità e al momento riguarderà solo i nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia ma l'obiettivo è di estenderla a tutti gli studenti dell'istituto. Tuttavia la decisione ha innescato un'accesa contesa politica. Il primo a intervenire per esprimere il proprio dissenso è stato il deputato Salentino di Fratelli d'Italia Saverio Congedo. Mi auguro ha spiegato che non sia un primo passo per inserire l'inesistenza delle differenze naturali uomo-donna nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il sindaco di Guagnano, François Imperiale, ha difeso la proposta. Il verde è legato alla speranza, ha spiegato a Lanza aggiungendo che la vicenda ora è al centro di una vera e propria strumentalizzazione politica. È una scelta che non va in una direzione ideologica, ha proseguito Imperiale, ma ha l'obiettivo di costruire una società moderna che valorizzi i talenti e le inclinazioni dei bambini a prescindere dal loro genere. Sempre a Lanza il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Michele Serra ha evidenziato che la proposta rappresenta un valore aggiunto per l'offerta formativa della scuola. Serra ha provato a smorzare le polemiche e nell'ordine delle cose che qualcuno abbia un'idea diversa rispetto alla nostra proposta. Se qualcuno ha bisogno di un chiarimento, conclude il dirigente scolastico, le maestre Dio in prima persona. Siamo assolutamente disponibili a dialogare.